Miei cari follower, le meravigliose immagini del carismatico attore Erkan Merik sono state apprezzate sui social media. Nuove foto del bellissimo attore, che condividono immagini piene di amore e ambiziose. Come sempre, sul mio canale speciale. Vi presentiamo nuove immagini e nuovissime notifiche di Erkan Merik e Azalsubasi. Speciali per i loro fan. Sotto forma di video Erkan Merik e Azalsubasi hanno aperto una nuova pagina della loro vita. Magnifiche foto di Erkan Merik, che ha navigato in un nuovo amore dopo la separazione. Sul mio canale speciale per te. Grazie a tutti. Grazie a tutti.